Amici della Riete, vi sentite sollevati da questo anno che va a chiudersi, che va a terminare, perché c'è una luna bellissima in questa giornata, forse avete ricevuto l'invito quello giusto, è quello che vi mette di buon umore, quello che vi fa sentire bene, è una luna bellissima anche per i rapporti sentimentali, sicuramente migliore dei giorni scorsi in voi eravate cupi, voi eravate preoccupati, alle prese con mille problemi, adesso invece riuscite ad essere anche più spensierati e con questo Marte che transita nel segno dei pesci in questo ultimo giorno dell'anno, ha anche un filo romantici, quindi sarà il caso proprio di lasciarsi andare con il partner e fare perché no anche qualche promessa. Andiamo al segno del toro, ecco per voi questa luna non è propriamente...